Fino a 14 anni sono stato a Milano e poi mi sono trasferito qua in Abruzzo perché era Castel del Monde, perché era il paese dei miei genitori e abbiamo spinto i genitori di riavvicinarci al paese perché amevamo questa zona, amevamo la vita di paese non quella di città. A Castel del Monde ho trovato una famiglia perché sono tutte persone che ci conosciamo, è una piccola realtà, siamo poche persone, non è che siamo chissà quanti, perciò ci conosciamo, è una famiglia, non è come in città, conosci le poche persone che stanno lì nel palazzo e finito là, qui ci conosciamo tutti, anche i paesi vicino, i paesi limitrofi, ci conosciamo tutti, perciò è una famiglia allargata, c'è sempre da fare, sia l'inverno di estate anche essendo poche persone, ma i servizi ci sono, venite a trovarci che ne vale la pena.